Ciao a tutti, ancora una volta siamo fuori da un palazzo istituzionale. Uscire da uno ed entrare nell'altro, questo è quello che noi stiamo facendo in tutto questo periodo prima di tornare sul campo. Stiamo cercando di abbracciare e farci abbracciare da tutte le istituzioni possibili, proprio perché la sicurezza diventi alla portata di tutti e sia realizzabile da tutti. Noi facciamo sempre del nostro meglio, il Presidente Fontana oggi ci ha accolto e già questo è stato un passo importante. Ne vogliamo compiere tanti altri insieme. Approfitto di questo momento per ricordare a tutti che la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro è un'associazione di prevenzione sociale, quindi aiutateci col vostro 5 per 1000. Grazie. 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 Grazie.